Vi ringrazio per aver accettato l'invito di notizie della rivista della Regione Piemonte che questa volta vuole riflettere sul tema del futuro della fisionomia delle Regioni, un tema di grande attualità anche nel dibattito a livello parlamentare in questi giorni per quanto riguarda la riforma costituzionale, quindi del titolo quinto della nostra Costituzione e del Senato e proprio su questo punto vorrei chiedervi secondo voi quali sono le criticità, le problematiche che dovrà affrontare un processo di riforma del ruolo delle Regioni che veda le Regioni quali enti di indirizzo e di vera programmazione più che non solo di gestione delle politiche. Consigliere Pichetto. Grazie. Ma che dopo 50 anni, quasi 50 anni, si dovesse mettere mano al sistema dei riordini delle Regioni non c'è dubbio. Che dopo la riforma del titolo quinto avvenuta all'inizio del 2000 ci si sia resi conto che non funzionava in particolare il sistema della legislazione concorrente altrettanto però oggi siamo veramente al caos perché non può essere affrontato solo la questione Regioni separata dalla questione Stato e competenze dello Stato in questo caso e anche organizzazione istituzionale degli enti locali. Oggi siamo in una condizione di proprio metodo del guado nel senso che ci troviamo con la realtà istituzionale di base, comuni con misti, con comuni che alcuni si fondono, altri fanno convenzioni, altri fanno l'unione ai comuni e addirittura in questa Regione sono ancora delle pseudo comunità montane e dall'altra parte abbiamo la situazione della Regione con un carico notevole che vive di finanza essenzialmente trasferita ma non c'è più il trasferimento della finanza da parte dello Stato e nel contempo il Parlamento italiano è impegnato in una riforma costituzionale che eliminerebbe il Senato e darebbe una presenza delle Regioni nell'ambito del Senato. Forse il mettere le bocce ferme e pensare a un ordinamento dello Stato, della Repubblica con una logica, non dico non questa, con una sequenza sarebbe decisamente opportuno. Consigliere Rostagno, prego. Devo dire che condivido le riflessioni che fa il consigliere Picchetto perché abbiamo vissuto direi ormai cinque anni di confusione e caos di riordino e quindi sicuramente questo processo vissuto con riforme spot crea solo dei danni. Lei ha fatto una domanda che è quali sono le difficoltà che si intravedono io ne aggiungo una alle riflessioni che fa il consigliere Picchetto è che il ruolo programmatorio necessita di programmi condivisi da una maggioranza e di un'idea progettuale del futuro che deve essere molto molto chiara. Questo non sempre c'è ma se vogliamo arrivare ad un ruolo programmatorio efficace quello ci dovrà essere. Consigliere Monaco, prego. È evidente che il nostro è un paese che ha bisogno di riforme che ha bisogno, la nostra carta costituente ha bisogno di un macchigliaggio profondo non sono assolutamente convinto che la direzione che si sta assumendo sia quella più idonea anche in termini di rappresentatività di cosa succede nella realtà, nella società italiana quello che vedo che manca, la mia impressione, la mia perplessità è questa è relativa al fatto che ci manca da troppi anni nel sistema politico italiano la disponibilità all'ascolto un tempo i partiti politici erano abituati ad ascoltare anche le voci minoritarie perché comunque rappresentavano dei territori, delle istanze, delle persone indipendentemente da poi cosa facessero i governi in ordine a questa raccolta di istanze oggi da troppo tempo con questo falso meccanismo bipolare che poco appartiene alla cultura nazionale italiana proprio in termini di cultura si tende troppo spesso a dire ho vinto io, decido io d'accordo che esiste un albero decisionale dove c'è bisogno di scelte e quindi di riforme che portino la possibilità al decisore di assumere delle scelte ma credo che bisogna introdurre, qui vanno bene tutti i meccanismi ma la democrazia scelta sempre il contrappeso ci deve essere a un potere e si tende troppo spesso a togliere dei pesi le riforme, la riforma del senato visto che si parla di quella che influenza fortemente le regioni singolarmente credo che la riforma del senato potrebbe essere fatta non so se la formula più esatta sia quella di utilizzare degli eletti in regione perché io sono novello di questa esperienza la mia prima esperienza, credo come tutte le attività se fatta bene, sto provando a farla bene è estremamente impegnativa e devi essere molto concentrato sui problemi di una grossa regione impegnativa per bilancio, per popolazione, per realtà sociale non so quanto potremmo io o altri colleghi essere capaci di avere la stessa attenzione in regione Piemonte e poi prendere l'aereo tutte le settimane andare a Roma e preoccuparsi di altri temi mi potrei immaginare già è stato una sorta di fiasco una fiaschetta almeno la riforma del titolo quindi della Costituzione che ha creato non poche difficoltà ai sistemi rispetto a come fosse scritto il tema dei poteri delle regioni e dello Stato centrale su questo tema abbiamo visto che si sono poi generate delle confusioni perché non era stato chiarito non vorrei che si creino ulteriori confusioni non dimentichiamo che i parlamenti regionali sono gli ultimi organismi a elezione veramente diretta dove non ci sono delle gabbole tecniche per mandare dei rappresentanti in questo Parlamento quindi su questo tema secondo me non sono poi certissimo che queste riforme costituzionali stiano andando nella direzione desiderata dico un'ultima battuta e chiedo scusa del tempo che ho rubato anche gli altri colleghi su questo il compito programmatorio per certi versi già c'è ci dicono bene che cosa è ma se vogliamo lancio una idea se dovessimo pensare a una reale forma costituente del Paese non credo che debba passare dai rami parlamentari si potrebbe proporre una forma transitoria di eleggere oltre ai rami parlamentari che devono lavorare per produrre leggi ordinarie o straordinarie o quello che sia una ulteriore Camera costituente eletta è esclusivamente per giudicare la carta costituzionale e riformarla tutti che fanno tutto mi sembra un quacervo di confusione grazie consigliere Bertola penso che ciò su cui tutti siamo d'accordo è che quella delle attribuzioni delle competenze delle regioni così come ridefinite dalla riforma del titolo quinto sia un'esperienza che è da considerarsi a tutti gli effetti fallimentare si sono generati sprechi, inefficienze probabilmente è mancata anche la capacità programmatoria da parte degli organi esecutivi delle varie regioni e d'altra parte mancava, manca anche una vera autonomia finanziaria quindi una capacità programmatoria su attribuzioni che comunque erano e sono a finanza derivata in un momento in cui comunque i trasferimenti da parte dello Stato diminuiscono quindi ne faccio anche un problema di qualità della classe politica rappresento una forza politica che è nata da pochi anni quindi è nata anche per un'insoddisfazione verso la classe politica d'altra parte la riforma del Senato così come proposta secondo noi non risolve i problemi anzi rischia di aumentarli non siamo d'accordo con un'istituzione come quella del Senato che diventa un'istituzione non più elettiva e quindi si devono mandare al Senato o persone nominate e non elette oppure degli eletti come hanno sottolineato gli altri in altre istituzioni, degli eletti nelle regioni e qui si pone un tema allora un conto è se in Senato va un consigliere regionale che fa parte di una forza politica che ha diversi rappresentanti in regione allora è una forza politica che può perdere un rappresentante in regione perché poi non riuscirebbe più a seguire bene tutti i temi un conto è se magari una forza politica che ha pochi rappresentanti deve mandarne uno in Senato e si rischia appunto di depotenziare moltissimo quella forza politica a maggior ragione si crea un problema di rappresentatività perché a quel punto potrebbero andare a far parte del Senato non elettivo, un Senato come ente di secondo livello solo le forze politiche principali del Paese Bene, un aspetto di cui si parla molto in questo periodo e che è stato anche introdotto a livello regionale dal Presidente della Regione Chiamparino è quello delle macro-regioni e quindi nell'ottica diciamo di pensare ad una maggiore autonomia e a una maggiore efficienza delle regioni si propone la possibilità di svolgere delle funzioni in comune tra regioni fino all'ipotesi che questioni di interesse comune portino poi anche a un processo di federalismo macro-regionale Qual è la vostra opinione in merito? Consigliere Bertola, prego E' importante ragionare per trovare il livello territoriale ottimale per gestire le funzioni, per gestire le politiche Bisogna però evitare di andare a creare ulteriore confusione e ulteriori sovrapposizioni di competenze Quindi io più che ad un federalismo macro-regionale penserei alla possibilità penserei di valutare la possibilità di gestire per mezzo di forme associate o per mezzo magari di convenzioni delle funzioni che hanno una portata che va oltre quella che è la portata della singola regione Bene, consigliere Monaco Anche questo è un tema di particolare rilievo Allora, per maggiore autonomia dobbiamo creare la macro-regione C'è una contraddizione in termini nel senso che se dobbiamo pensare semplicemente a gestire alcuni aspetti che possono essere di funzionamento strutturale e che possono essere marginali rispetto a quelle che sono le azioni politiche può andare bene e allora è rilevante pensare alla macro-regione del nord del sud, del centro, delle isole si pensa a delle funzioni che vanno spese insieme posso immaginare delle funzioni amministrative di contabilità di valore marginale ma strutturalmente di supporto alla regione se pensiamo in termini programmatori e allora lì dobbiamo ragionare in maniera diversa credo che le regioni assumano quel ruolo di già di per sé e in Italia pensiamo alle regioni del nord hanno delle identità culturali ma sono delle aggregazioni sociali che hanno delle omogeneità e che poi diventa difficile andarle a riprodurre salvo per lo svolgimento di funzioni proprio di supporto base così come si sta facendo per alcuni enti regionali lo stiamo già facendo che alcune funzioni penso sui parchi la governance sulle governance di gestionali brutali dove non c'è bisogno di scelte politiche che vanno incontro a un'istanza piuttosto che all'altra si può ragionare e si potrebbe potrebbe uso il verbo e lo coniugo nel modo che ritengo idoneo si potrebbe avere oggettivamente una maggiore economia e facilitazione nel termine del lavoro ma altrimenti non avrebbe senso fare diversamente e soprattutto io immagino sempre che se non c'è la contrappeso al potere alla gestione del potere politico diventa una pericolosa deriva antidemocratica sempre qualunque forma organizzativa statale ma io sono da sempre convinto settore della necessità di avere delle regioni chiamiamole macro regioni con una dimensione maggiore altra cosa è l'aspetto gestionale che di avere a seconda del tipo di funzione delle aree di gestione che consentano l'efficacia e l'efficienza ma l'aspetto di legiferazione credo che in questo momento abbia degli sprechi evidenti la regione Piemonte ha 51 consiglieri avrà circa 500 persone che ruotano intorno alla macchina del consiglio non vedo perché delle regioni vicine debbano fare la stessa cosa credo che su molte materie il ragionamento debba essere fatto per aree maggiori poi la dimensione di queste aree la si può discutere non credo che la soluzione sia la regione del nord ma che la Liguria e il Piemonte sulle stesse materie debbano fare dei lavori analoghi lo trovo veramente uno spreco è il tema di moda in questo momento io credo che sinceramente le regioni così come prima le province o attualmente le province sono frutto di di suddivisioni storiche e non di valutazione di omogeneità territoriale da ciò si ha una regione a 4 milioni e mezzo di abitanti che è il Piemonte e una regione da 150 mila abitanti che è la Valle d'Aosta o da un milione e mezzo che è la Liguria potrebbe anche essere ridefinito proprio per alcune piccole aree l'eventuale accorpamento dico accorpamento unione chiamiamolo non ne faccio una questione di conquiste i piemontesi l'Italia l'ha conquistata nel 1860 ha finito il 66 quindi nel 70 con Roma 1870 quindi fermiamoci lì la questione secondo me sta invece nei termini di considerarci e io ragiono per casa mia per il Piemonte il Piemonte Lombardia Veneto e Emilia Romagna sono la più grande area produttiva d'Europa messe assieme probabilmente battono il Baden-Butenberg se queste realtà avessero una uniformità di norme quindi di leggi e di procedure mediate discusse cioè se la legge urbanistica piemontese fosse uguale a quella Lombarda uguale a quella Veneto e avesse le stesse procedure per quindi l'urbanistica la sanità i lavori pubblici e così via probabilmente renderei un servizio enorme ai cittadini ma della sopravvivenza del simbolo importa poco comunque importa a un livello inferiore rispetto a quello che è il vero servizio che si può dare non sta in piedi che al passaggio di confine ti dicono io arrivo dal Piemonte orientale ti dicono ma in Lombardia si può fare in Piemonte non si può fare oppure in Piemonte si può fare in Lombardia non si può fare stiamo mettendo tutta una serie di steccati e il titolo quinto quindi i poteri i maggiori poteri delle regioni l'hanno accentuato stiamo mettendo tutta una serie di steccati e limiti che nuociono ai nostri cittadini ai cittadini piemontesi perché siamo in Piemonte ma a quelli lombardi perché in Lombardia quindi questo secondo me è il concetto di macro regione la macro regione invece istituzionale in questo caso sarebbe la regione del nord quello che ho citato io significerebbe dividere il paese significerebbe non avere più l'Italia perché a questo punto se il nord si mette una macro regione dello Stato centrale non ce ne importerebbe più niente ecco un altro aspetto che in parte avete già accennato è quello che riguarda proprio la ridefinizione delle competenze dei poteri tra Stato centrale e regioni questa ridefinizione probabilmente renderebbe più efficace anche i rapporti tra la regione e gli enti locali a vostro avviso in questo punto di vista quali sono i nodi da sciogliere anche in confronto alla problematica diciamo dell'abolizione delle province che è stata approvata da poco ma l'ho accennato all'inizio forse bisognerebbe mettersi a fare una riforma e dire che comincia fra vent'anni che viene attuata fra vent'anni così almeno non ci sarebbero più né questi partiti politici né queste persone fisiche sarebbero ma la guarderebbero per televisione dalla casa di riposo quindi non ci sarebbe più tutta una serie di declinazioni no per Bertola naturalmente no allora non ci sarebbero più tutta una serie di valutazioni che ahimè non hanno niente a che vedere con quello che è un ordinato sistema istituzionale gerarchico dei livelli sul territorio detto prima noi dovremmo avere prima di tutto le idee chiare di cosa vuole fare lo Stato delle province cioè la buffonata un termine non mi viene un altro termine che il nostro Parlamento ha fatto di dire che eliminava le province con chissà con i risparmi per far costare tutto molto di più perché a questo punto governa la burocrazia che si aumenta gli stipendi e costa molto più del potere politico per non rispondere a nessuno e comunque perché le strade provinciali continuano a esserci perché questo è uno degli esempi delle cose malfatte che bisogna capire vogliamo una suddivisione diversa a livello territoriale vediamola ma vediamola che funzioni questo paese ha funzionato con lo Stato le province e i comuni secondo il modello francese fino a 50 anni fa 50 anni fa sono arrivate le regioni con una funzione molto programmatoria meno gestoria poi a seguito del titolo quinto si è caricato sulla funzione anche gestoria perché comunque con la tendenza poi del potere politico anche da centrare determinati poteri ma oggi ci troviamo con lo Stato che da prima era minato la comunità montana adesso vuole tutte le unioni dei comuni fa norme che non sono applicabili a tutto il territorio perché valgono per Roma ma in realtà dei 1206 comuni non sono applicabili è chiaro che il pensare a un modello allora o lo pensiamo in modo completo e lo pensiamo indipendentemente dalla sopravvivenza di questo o quel partito perché altrimenti se pensiamo solo a sopravvivenza per me di Forza Italia i colleghi delle loro formazioni politiche credo che andiamo alle prossime elezioni e poi rifacciamo un'altra riforma istituzionale e costituzionale ma io faccio parte di una forza politica che ha spinto un po' il piede sull'acceleratore e sulle riforme che non sono iniziati adesso il processo di riforme è iniziato da tanto da tanto adesso c'è una forte spinta anche perché diciamo l'elettorato vede ma non solo l'elettorato l'Europa vede nel processo riformatore come la soluzione forse così non è e anzi quando si accelera si rischia anche di fare degli errori per cui io ho anche una visione critica rispetto alle riforme che stanno vivendo che stiamo vivendo quella delle province ha sicuramente delle criticità e la più grande criticità c'è legata alla sovrapposizione degli ambiti perché la riforma delle province unita alla riforma che comporta i servizi associati le funzioni l'esercizio delle funzioni associate in modo associato fa sì che se noi guardiamo la nostra anche sulla nostra regione dall'alto abbiamo alcuni ambiti che sono ambiti provinciali all'interno della città metropolitana si sono individuate delle aree omogenee che non combaciano con le unioni dei comuni che non combaciano a volte con le aree per l'esercizio delle funzioni della raccolta rifiuti che non combaciano con le ASL quindi c'è un ordinamento disorganizzato questa è una delle più grandi difficoltà c'è poi l'altra criticità e la vedo come tensione politica è che un processo di riforme non deve avere mai come primo obiettivo quello economico perché è l'obiettivo ultimo non perché abbiamo tanti soldi ma perché non è così che risparmieremo in Italia abbiamo l'abitudine di parlare sempre tanti troppo tema hanno introdotto l'argomento è stato segnalato che infatti il processo riformatore nel nostro paese non nasce adesso ma si sente da lontano negli anni questa necessità si è tentato con la riforma del titolo quinto la verità a mio giudizio è un'altra in realtà sarebbe tutto molto più semplice se invece di fare tante discussioni si riuscisse a fare chiarezza piuttosto che fare spot ad effetto mediatico perché lo spot ad effetto mediatico cancello le province dai un tratto di penna stabilisci a chi vanno quelle competenze e vai con riforma costituzionale del titolo quinto e dice sono cancellate definitivamente le province si va tutto in capo ai comuni alle regioni salti un passaggio in questa maniera abbiamo fatto peggio della riforma del titolo quinto come era hanno ragione i colleghi a dire prendiamoci un attimo o vent'anni addirittura di riflessione ma forse il collega Pichetto dall'alto della sua saggezza ed esperienza dice beh insomma se ci prendiamo vent'anni forse aggiustiamo le cose sarebbe tanto più semplice fare l'elenco di chi deve fare cosa è lì che sono le competenze le sovrapposizioni d'ambito le cose in realtà la sintesi è lì cosa devono fare le regioni in autonomia e senza avere il problema che poi la provincia si oppone o la città metropolitana che necessariamente è una organizzazione che rischia di essere un grosso animale dove c'è una testa che è la capitale la città capologo eccetera che in qualche maniera assorbe le risorse distraendole da quelle che sono delle realtà piccole ma dove la gente ha piacere di esserci e la dico brutalmente quando noi andremo a fare delle politiche che in qualche modo impongono ai cittadini di abbandonare la montagna non lamentiamoci più se continuano e aumentano i dissesti idrogeologici il dissesto idrogeologico fra le mille cause con cause dell'urbanizzazione eccetera è legato anche all'abbandono della montagna la gente non ha più possibilità perché in montagna costa di più è una condizione orografica difficile devi avere un talento per vivere in montagna in quelle condizioni devi anche pagare di più allora facciamo in maniera dico che ci siano ma per fare questo c'è bisogno di attenzione su quei territori e quindi di risorse una organizzazione a elezione indiretta che cerca di avocare tutto al centro e quindi sulla città della città metropolitana nella città la maggior parte delle risorse comporta un tentativo di distrazione chi fa cosa questo dovrebbe essere il tema della riforma due elenchi tre elenchi quali sono gli organismi che si occupano di cosa senza conflitto di competenza controllo bilanciamento di questi poteri laddove vengono assegnati di cosa stiamo parlando di convenienze purtroppo dove da più parti ognuno tira la coperta dal suo lato dal suo versante che ci sia bisogno di riforme si facciano dimentichiamo come dire anche noi lo vivo nel nostro Parlamento non so se è condiviso dai colleghi viviamo dei minuetti parlamentari che sicuramente garantiscono l'esercizio democratico senza conflitti e senza liti quindi ma chi ci guarda dall'esterno credo che viva un'esperienza tristissima del Consiglio regionale chi lo vive dall'interno sta ad ascoltare tutti i colleghi e alla fine ne esce cotto ma se uno guarda dall'esterno vede tante persone apparentemente distratte uno che parla e se la canta da solo l'altro nessuno lo ascolta probabilmente alla fine c'è un voto elettronico non vedi nemmeno la manina e non sai nemmeno di cosa hanno parlato cosa hanno fatto per me questi signori chi lo vive dall'interno forse alcuni riescono a percepire che stiamo facendo un lavoro chi più chi meno però la definizione secondo me della riforme vere va fatta in maniera semplice l'elencazione di chi fa cosa in modo chiaro univoco senza possibilità di interpretazioni successivi sull'elenco non c'è bisogno di interpretare è chiaro io mi occupo di sport e tu ti occupi di sanità non c'è conflitto di competenze mai le province non sono state abolite sono state abolite le cariche dei consiglieri provinciali come organi elettivi diciamo diretti perché adesso sono elezioni di secondo livello a quelle che erano e che sono le province sono rimaste delle attribuzioni delle attribuzioni di funzioni che però dovrebbero essere svolte dal 50% in meno del personale quindi questa riforma la riforma del Rio è una riforma pasticciata e gli effetti negativi si vedranno ben presto si continua a toccare l'assetto istituzionale senza andare a risolvere i problemi c'è l'obiettivo di perseguire il risultato per comunicarlo abbiamo eliminato le province più che andare a perseguire gli effetti positivi che poi possono avere le riforme allora forse è veramente il caso di riformare tutto insieme quindi il rapporto tra Stato e Regioni le competenze delle Regioni e degli altri enti dei comuni e delle province riformare tutto insieme e anche tutti insieme piuttosto prendendosi il tempo che serve piuttosto con una assemblea costituente però per seguire il risultato l'effetto positivo e non tanto l'effetto mediatico degli annunci e soprattutto magari sarebbe utile coinvolgere maggiormente i cittadini con gli strumenti attualmente a disposizione che la costituzione è da disposizione di cittadini per le scelte che li riguardano direttamente Bene vi ringrazio abbiamo terminato e grazie di aver partecipato a questo forum di notizie di notizie